Ben ritrovati telespettatori di Le Fonti TV a questa terza giornata del Salone del Risparmio. Torniamo a parlare di certificati, questa volta con la dottoressa Fossatelli di Fontobel e cerchiamo di capire come anche i certificati applichino dei criteri ISG. Sì, Fontobel è sicuramente uno degli emittenti che ha più a cuore i criteri ISG ma anche quelli dell'impact investing. Siamo come società carbon free dal 2009, abbiamo lanciato una filosofia che abbiamo all'interno della nostra cultura aziendale e proprio per questo abbiamo lanciato un prodotto sull'impact investing che va oltre l'ISG, va oltre la sostenibilità, va a replicare un basket azionario di 20 azioni dove le azioni hanno un impatto positivo sull'ambiente ma anche appunto nelle varie attività che svolgono. Quindi andiamo oltre addirittura l'SRI e l'ISG. Infatti l'impact investing si ha veramente un riscontro poi immediato sull'economia reale e rispetto anche ad altri certificati che avete lanciato in ambito smart grid che cosa possiamo dire anche sul loro modello e su come funzionano? Sì assolutamente si collocano proprio all'interno dei certificati legati all'investimento sostenibile. Lo smart grid è appunto una rete elettrica intelligente che permette la connessione anche attraverso tecnologie e attraverso fonti di energia rinnovabile e quindi green. Lo smart grid è uno dei prodotti che fa parte della gamma dei tracker, abbiamo emesso dei nuovi prodotti all'interno di quest'anno, quattro nuovi prodotti, quattro nuovi megatrend su cui investire tra cui appunto temi sostenibili. Perfetto per cui anche lato certificati i criteri ESG sono altamente preservati. Io ringrazio nuovamente la dottoressa Fossatelli per essere stata con noi e cedo la linea allo studio.